le mutazioni sono di diversi tipi una o più lettere che compongono un gene possono essere perdute introdotte scambiate oppure moltiplicate questi errori di scrittura si chiamano delezioni inserzioni sostituzioni e duplicazioni oltre alle mutazioni nei geni esistono anche le mutazioni a livello dei cromosomi in questo caso sono i cromosomi ad essere modificati e con essi molti geni in una volta sola durante queste mutazioni intere parti dei cromosomi possono essere perse molteplicate o inserite proprio come le mutazioni geniche i diversi tipi di mutazioni cromosomiche sono chiamati delezione duplicazione e inserzione può anche capitare che una parte di un cromosoma si rompa e che il frammento così generato si attacchi a un altro cromosoma o che si unisca nuovamente al cromosoma di origine ma in senso inverso si parla allora di traslocazione e di inversione persino interi cromosomi possono essere perduti o moltiplicati la trisomia del cromosoma 21 è una mutazione ben conosciuta in essa tutto il cromosoma 21 è presente tre volte la trisomia del cromosoma 21 è la causa della malattia chiamata sindrome di down 2 è un scolded 2 l'esperia 4 5 ou